Giuseppe Giampietri, presidente della Proloco di Navelli, che edizione è questa della Sagra dei Ceci e dello Zafferano 2018? Come sta andando? Beh, sta andando bene. Oggi pomeriggio pensavamo con il tempo, con le previsioni, è piovuto, però sembra che la gente non ha avuto paura della pioggia e è venuta a trovarci. I ceci, i ceci in ogni modo, come li state servendo? Che cosa va per la maggiore? Beh, i ceci con gnocchette e ceci, sagne e ceci, bieta con zafferano e ceci in bianco. Stanno andando tanto i gnocchetti. E dove arriva la gente? Beh, un po' dappertutto. Noi di solito abbiamo visto che vengono molto di più dalla costa, anche dall'Aquilano però vediamo che vengono molto di più dalla costa. Una squadra compatta, quella del Paese, quella della Prologo, che consente la realizzazione di questa manifestazione. Quanti giovani ci sono? Che tipo di sensibilità c'è da parte delle nuove generazioni per questa tradizionale manifestazione? Beh, la generazione, i giovani li vedo molto presenti, anche perché io ho un consiglio molto giovane, il 60%, il 70% siamo giovani. Vedo anche dal di fuori del consiglio molti giovani che quest'anno ci hanno dato molta una mano, anche nella preparazione dei supplì e in tutto. Grazie. Grazie.